Tiene, quando gli agenti della polizia locale nord-est Vicentino li hanno fermati a seguito della segnalazione di un passante che li aveva notati con uno spinello in mano davanti a scuola, la droga che avevano appena fumato stava già facendo il suo effetto, ma vista la giovanità i vigili non avrebbero mai pensato di dover stringere le manette ai polsi di uno di loro. Nei guai sono finiti due studenti di 17 anni residenti nel comprensorio che frequentano le superiori a Tiene. Vistisi scoperti, uno dei due è estratto dalle tasche mezzo etto di Ashish e un bilancino elettronico. Ne è seguita la perquisizione domiciliare in camera da letto del giovane, gli agenti hanno rinvenuto altri duetti di stupefacente tra marijuana e Ashish che sul mercato avrebbe fruttato più di 2.500 euro. Per lui è scattato l'arresto per detenzione di droga e i fini di spaccio, mentre l'amico è stato segnalato alla prefettura quale assuntore.